musica musica dato che facciamo colazione nel mentre andiamo a raccontarvi dove abbiamo dormito ieri stavamo cercando un posto verso le 5 non l'abbiamo trovato Ricky ha sbagliato il ccv della carta convintissimo fosse 613 talmente convinto che non avevo voglia di spogliarmi tutto per tirare fuori la carta di credito l'ho digitato e è uscito il flag verde peccato che però il flag verde era perché avevo inserito tre codici non che erano giusti e quindi pagamento declinato però ce ne siamo accorti appena arrivati che erano le 8 8,8,8,8 quattro ma non andava culo vuole che c'era la stessa stanza perché questo è un hotel autogestito vende praticamente tu paghi ti arriva un codice quando entri vai in camera ti 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 entri dentro che spettacolo giusto una cosa se dovete venire qua in danimarca questa stanza non abbiamo pagato 52 euro la notte però ieri sera siamo andati a cena in un pub abbiamo preso due birre un piatto di un hamburger vegetariano e un hamburger normale e abbiamo speso 60 euro quindi se ci facciamo due conti ieri noi presente abbiamo pagato 52 euro questa stanza ma è un miracolo è un miracolo quindi attenzione ai prezzi un po' allucinante vabbè allora ci stiamo dirigendo buongiorno siamo da Asperg Asperg si qua ci stiamo dirigendo a Alborg dopodiché andremo qua a Longstrup a vedere un faro bellissimo che tra l'altro però bisogna fare in offroad e dopodiché a Hirschels però abbiamo beccato acqua poi sole poi sole poi acqua poi ci vestiamo con una tutta antipioggia poi la togliamo una zona molto molto ventosa ci sono tantissime paleoli qui e si il vento lo stiamo sentendo un sacco abbiamo deciso di fare una passeggiata tanto per cambiare tanto perché non siamo stanchi tanto perché non c'è vento facciamo una passeggiata per arrivare a droffare comunque dai bellissimo adesso ci sono andato a 10 minuti di camminata ma secondo me sono un po' di ho perso due molari facendo una barretta che è abbastanza congelata abbiamo scoperto di avere i termometri etici sulle naiken segnano sempre 7 gradi sempre sempre cioè se piove sia se praticamente non riesci a parlare senza balbettare sia se hai caldo sono sempre 7 quindi tu hai la percezione di stare bene in realtà buon gelante vabbè facciamo questa campionata poi vediamo come sta a fare comunque ragazzi questo deve essere una figata siamo praticamente sulla punta lasciamo in sovraimpressione il nome del primo paro il primo paro dobbiamo farlo davvero hamburger mi sta vinto eh il paro dobbiamo farlo la pratica ne vale sicuramente la pena quindi io devo diciamo che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.